Buongiorno a tutte ragazze, ebbene sì, abbiamo visto il tuo ex corso nel totti, sì è vero. Oggi mi sento di raccontarvi tutto quello che è successo. Allora, dato che mi seguite da tanto tempo, anche se diciamo che non sono famosa, però ho avuto molto seguito su TikTok. Avete visto la mia relazione con Christian, all'inizio che mi sono messa con Christian, quando sono rimasta incinta e mi avete sempre seguita. Quindi voglio raccontarmi come sono andate realmente le cose, perché penso che sia giusto. Con la bambina che non aveva neanche due mesi di vita, apro il telefono del mio fidanzato, che ancora conviveva con me, e trovo la chiamata di Chanel Totti. Io scrivo a lei, e tutto, lei nega, no non è vero, di là e di qua. Ok, lui dopo qualche giorno viene a vedere la bambina, io gli faccio vedere tutte le prove, e lui mi conferma che era vero, e oltretutto diceva anche che lui mi amava, tutte queste cose qua. Allora io ovviamente caccio di casa lui, e tutto. Già l'avevo cacciato di casa, invece quando ho trovato la chiamata mi sono scordata di dirvelo. Caccio di casa a lui e tutto. E scrivo a lei, lei mi risponde che il problema non è il suo, ma di Christian, perché la bambina non ce l'ha a lei. Ebbene sì, quindi lei dice che non è un problema sentirsi con una persona fidanzata, con una figlia a casa, perché il problema non è il suo. Perché quando si sono cominciati a sentire, e Christian stava ancora dentro casa mia, quindi lei ha fatto un'amante. O almeno a casa mia così si chiama. Quindi un applauso all'educazione che è stata data a questa bambina, perché ha 15 anni, sì, ha 15 anni. E niente, sicuramente il problema principale è stato lui, perché sì, è vero, è lui che aveva la figlia, non lei. Ma a casa mia però mi hanno insegnato una cosa che si chiamano valori. E per me l'uomo di un'altra è trasparente. Però sono modi di vivere, modi di crescere. Purtroppo non siamo tutti fortunati. A me mia madre e mio padre hanno mandato una cosa, educazione, valori e tantissime altre cose nella vita. E non abbiamo tutti quanti questa fortuna. Non credo che questo video sia violazione della privacy, perché proprio oggi hanno messo una foto insieme su Instagram, quindi dal momento che loro pubblicano, io mi sento in diritto di dare una giustificazione al perché io non sto più con il mio ex. Purtroppo qua non posso pubblicarvi tutte le chat e tutte le prove, perché purtroppo TikTok appena sgari una cosa subito ti blocca il video, quindi sulle storie di Instagram vi metto tutte le prove, perché sinceramente mi sono stufata e anche io con una bambina piccola mi devo tutelare. Ciao ragazzi!